Presidente, pronta allo scontro con il governo? Sì, noi abbiamo preso alla lettera quella che doveva essere leale collaborazione. Siamo andati al Ministero due settimane fa e abbiamo portato quelle che erano le nostre istanze, che erano molto semplici in realtà e molto lineari, ed erano tre. La prima, ci rendiamo conto del fatto che per normativa europea la Sardegna deve ottemperare al cosiddetto Bardensheri, quindi prendersi il suo carico di rinnovabili da sviluppare in Sardegna. E quindi la cosa che abbiamo chiesto è che nel novero di questo carico e quindi di queste autorizzazioni potessimo noi decidere dove mettere queste autorizzazioni, perché abbiamo beni identitari da proteggere, abbiamo territori agricoli vocati che dobbiamo ovviamente difendere, abbiamo anche un contesto paesaggistico che deve essere ovviamente messo a fattore comune. E quindi abbiamo detto, va bene, noi possiamo discutere relativamente al limite, ma come arrivarci lo decidiamo noi. Dopodiché, la seconda cosa che abbiamo chiesto relativamente ai parchi eolici offshore, che potrebbero rientrare all'interno delle autorizzazioni, abbiamo detto che se questi parchi eolici incidono nelle nostre acque, anche se sono acque internazionali, quindi oltre le 12 miglia, impattanti la Sardegna, perché incidono sulla nostra economia, sulla nostra pesca, sul turismo, quindi su attività che sono nostre. La proposta del Governo di considerare 40% per la Sardegna e 60% per altri contesti, in una misura in cui il cavo non arriva in Sardegna, era ed è inaccettabile. Il terzo punto è per la crescita. Noi in questo momento abbiamo autorizzazioni che bene cedono anche il limite di 6,2, che è stato posto fino al 2030 dal Governo e dalla normativa europea. E su quello gli abbiamo detto, voi dovete starne fuori. Noi dobbiamo decidere come vogliamo crescere dal punto di vista energetico, come dobbiamo organizzare il nostro territorio, e come dobbiamo organizzare la produzione di energia sulla base della nostra economia. Lo faremo con un piano energetico e lo faremo con una crescita organica. Quindi questi erano i presupposti su cui si poteva trovare un accordo. Questi presupposti non sono assolutamente rispondenti alla bozza che noi abbiamo visto. Tra l'altro su questi presupposti noi abbiamo fatto convergere ben 10 regioni, oltre la nostra, nella conferenza tecnica Stato-Regioni, quindi era su questi presupposti che le altre regioni si sono dette disponibili a trovare un'intesa con il Governo. E' chiaro che, siccome nessuno di questi presupposti è stato preso in considerazione nella bozza, adesso ovviamente andremo al confronto diretto. Con quali strumenti? Intanto accelerando il percorso del disegno di legge e rinforzandolo in Consiglio, e ovviamente utilizzando anche il ruolo e il lavoro dei nostri parlamentari sardi. I parlamentari che abbiamo in questo momento espressione, sia a Montecitorio che in Senato, sono prima di tutto sardi. E quindi, rispetto a, per esempio, contesti che sono già stati approvati in un contesto nazionale, penso al fotovoltaico, per esempio, nelle vicinanze di Barumini, ecco, su quello si può agire esattamente come si è fatto sull'Einstein Telescope. Il progetto Gomorreta, che è un progetto che ricorda che aveva già avuto l'autorizzazione, è stato rimandato al mittente con un emendamento nazionale. E quindi è anche giusto e corretto che i parlamentari sardi, di qualsiasi appartenenza politica, facciano il loro lavoro. Ma le interlocuzioni con il governo sono ancora in corso? Le interlocuzioni con il governo sono in corso nella misura in cui, ovviamente, noi ci auspichiamo che il governo capisca il danno che ha fatto rispetto a un rapporto che stava cominciando. Quindi, se il governo, come dire, tornerà sui suoi passi, ci proporrà una bozza che può essere accettabile, noi ovviamente la prenderemo in considerazione. In questo momento stiamo vedendo che questo tipo di atteggiamento non c'è. Noi abbiamo ricevuto una relazione relativamente, in particolare all'offshore, da parte degli uffici del Ministero dell'Ambiente, che è di poco offensivo e inaccettabile dire poco. Quindi, su questo, ovviamente, la collaborazione sappiamo che cos'è, la sappiamo esercitare, ma non vogliamo essere presi in giro. Presidente, le vorrei chiedere, dopo l'incontro con il decreto Fagilli, lei è tornata molto ottimista, poi succede quello che sappiamo nel decreto. La sua reazione politica, ma anche personale, quale è senza presa in giro, delusa, ammareggiata, cioè com'è che ha reagito di fronte a quella che io ritengo la provocazione? Ma noi veniamo da un ritardo di due anni e mezzo rispetto alle aree idone. Quindi la presa in giro di fatto già c'è. Io voglio ricordare che il divieto di moratori andava a braccetto con i 180 giorni entro cui il decreto delle aree idone doveva essere reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente. Sono passati due anni e tre mesi e l'assenza di regole l'abbiamo vista e l'abbiamo sentita. Quindi siccome noi abbiamo avuto estrema chiarezza, proprio per evitare fraintendimenti rispetto alle tre cose di cui ho parlato e quindi c'è stata ovviamente apertura, altrimenti non avremmo portato avanti le interlocuzioni, certo che mi sono sentita presa in giro. Mi sono sentita presa in giro, ma non personalmente. Mi sono sentita presa in giro come rappresentante della Sardegna. Noi abbiamo un territorio che in questo momento è attaccato, è sotto gli occhi di tutti e quindi riteniamo opportuno difenderci con ogni strumento e con ogni modalità. E onestamente questo tipo di atteggiamento sicuramente mina anche la collaborazione futura. Lei ha parlato di rinforzare il disegno di legge. In che senso? Nel senso che ovviamente noi stiamo valutando insieme agli uffici qualsiasi modalità possa essere reso ovviamente più forte. e quindi sicuramente verranno proposti degli emendamenti che saranno rafforzativi da questo punto di vista. Io voglio essere chiara su questo. È una legge transitoria. Perché? Perché noi chiaramente dobbiamo lavorare su elementi urbanistici, elementi paesaggistici, rivedendo anche la legge urbanistica e la legge paesaggistica, ma più che altro per trovare anche una disciplina condivisa rispetto a norme che comunque hanno anche la loro datazione. Per questo siamo consapevoli che ci vuole tempo. Lo stesso Soru, che è considerato la best practice, a questo punto di vista ci ha messo più di un anno per fare la legge paesaggistica. Per cui chiunque racconti che in 45 giorni sia possibile portare una legge urbanistica, una legge paesaggistica, sta prendendo in giri i sardi. Siccome noi siamo persone serie, abbiamo bisogno di tempo e l'abbiamo dichiarato per fare in modo di poter preparare quelle che sono le norme definitive e nel frattempo però dobbiamo tutelarci relativamente al fatto che il territorio e il suolo non vengano modificati. Per questo abbiamo agito sulle realizzazioni, perché le realizzazioni ci danno la possibilità nel transitorio di non avere effetti che possono essere definitivi. Chiaro è che se avessimo agito sulle autorizzazioni, il disegno di legge una volta licenziato sarebbe stato impugnato immediatamente. Noi vogliamo avere un percorso serio, abbiamo delle istanze corrette, stiamo cercando ovviamente di non danneggiare una transizione ecologica in cui noi crediamo fortemente. Io voglio anche riportare il discorso a quello che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo due centrali a carbone in Sardegna, di cui nessuno parla. Abbiamo due centrali a carbone che incidono sulla salute e la vita dei cittadini che le devono subire. Quindi io vorrei riportare la discussione rispetto a quello che dobbiamo fare con serietà. Noi dobbiamo superare le centrali a carbone, dobbiamo superare i combustibili fossili perché poi non possiamo fare lacrime da coccodrillo e lamentarci della siccità che sulle nostre cose, sui nostri territori in questo momento stiamo subendo e poi far finta di nulla. Quindi bisogna essere seri nella politica che si propone, però allo stesso tempo non possiamo subire speculazioni. Noi useremo qualsiasi leva abbiamo a disposizione, nazionale e regionale. Mi spiega, Presidente, come può incidere il disegno di legge sul decreto? Cioè, l'essereo che si rischia di esserci prima approvazione del decreto o comunque escusso del decreto e poi il disegno di legge. Come fa il disegno di legge a intervenire sulle autorizzazioni che sono già concesse? Beh, intanto il disegno di legge incide per definire quello che è il periodo di vacanza e fino a questo momento mi risulta che il decreto non sia ancora uscito. Certo, il governo può forzare la mano, decidere con prepotenza di rompere il fatto che c'è un fronte di regione di cui ricordo la Sardegna è capofila. Noi siamo capofila nella conferenza Stato-Regioni per i temi dell'energia. Quindi il governo può certamente esercitare le sue prerogative. Noi esercitiamo le nostre. In questo momento c'è un vuoto normativo e noi abbiamo il dovere, nel più breve tempo possibile, di riempire questo vuoto normativo prendendoci il tempo che ci serve per poter operare. Chiaramente quello che è servito anche l'incontro di oggi è di sensibilizzare i capigruppo e i presidenti di commissione relativamente ai tempi. Noi siamo ovviamente consapevoli relativamente al fatto che il tempo è una variabile importantissima e quindi noi dobbiamo riuscire a licenziare questo disegno di legge nel più breve tempo possibile. Cioè entro giugno? Sicuramente entro giugno.